la nostra marica fruscio, buonasera a tutti, buonasera, è la prima volta che sono in trasmissione con un evidenziatore, ce l'avete tutti col suo vestitino, va bene che ha un colore non mi è mai capitato, portiamo un po' di luce insomma, non mi è mai capitato, Giovanna c'erano su col mio vestitino, ma è un giallo canarino insomma, con tutti questi belli uccellini che abbiamo tutti in studio, posso andare via, torno alle 8 quando c'è lì, torno, ma quando c'è lì, ci sono, ma non questo, il colore di questo vestito non piace a nessuno stasera, no, 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 ma cos'ha già questo vestito che non va, è bellissimo, è il più bel vestito che abbia mai visto, non potevi mettere una cosa migliore di questo, sei mora, sei contrasto, Bambola, sogno ancora d'occhi aperti, tu sei magica, principessa dei miei sogni, sei una favola, un amore programmato per noi due, 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 meglio corno un uomo violento, veramente, no, è un uomo violento, allora, allora, violenta o violenta? No, allora, strepitoso, ancora Napoli, è gol, è Iguaino, è capitone, è capitone nella rete, è capitone nella rete, è capitone nella rete, è capitone nella rete, Iguaino, 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 è capitone nella rete, capitone nella rete, capitone nella rete, capitone nella rete, è in Napoli, balza, andiamo a vedere al terzo posto, caro un uomo, favole, dove tutto è colorato, sono favole, e se guardi su non vedi più la nuvole, sembra un arcobaleno, una storia colorata, questo amore zuccherazzo per lì giù, è Fischia, è Fischia, Appemaia vieni qua, Appemaia ti doverà un abbraccio, è che devo chiudere il volo, un po' non ho tanto tempo, intanto inizio a salutare, ci rivediamo alle 20.30, si abbracciati, oh ma che belli, Viva 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 La Appemaia, Viva Viva La Appemaia, Vogliamo, 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 terzo posto. terzo posto.